E allora si può partire all'Opico d'Arena, riceve proprio Fukudome, Orro spinge in quattro per Dolderop, grande sciarpata in parallela. Kazot, primo attacco da opposta, è un gran bel vedere. Ancora Omo Rui, money out, Fukudome vola a tenere vivo questo rally, altra alzata imperfetta, Silla prova a sistemarla, gran sbracciata, ma spirito è lì, Shikel, Murata in campo! Pola Kazot, Silla, palla importantissima, grande attacco di Miriam Silla! Silla, palla importantissima, grande attacco di Miriam Silla! Silla, palla importantissima, grande attacco di Miriam Silla! È soltanto questione di attesa secondo i tifosi della Numia Vero Volley, Ace da parte di Miriam Silla che poi allarga le braccia come dire, beh avete visto!